Buongiorno a tutti, questa è una ricetta che ho realizzato all'evento Bimbi e praticamente nell'impasto ho messo la patata lessa così da ottenere delle brioche soffici per un paio di giorni la ricetta l'ho già memorizzata nel Bimbi quindi chi ha il TM6 la trova già direttamente lì io utilizzerò la modalità guidata ma se volete potete utilizzare anche altri dispositivi mettiamo il latte nel boccale e facciamo scaldare scorso questo tempo aggiungiamo il lievito va bene sia quello fresco che quello secco unire anche tutto lo zucchero aggiungiamo il colorante giallo in polvere serve per dare la classica colorazione unire ancora l'aroma brioche quindi coprite con il proprio coperchio e cominciate ad emulsionare gli ingredienti 20 secondi a velocità 4 scorso questo tempo siamo pronti possiamo unire tutta la farina io ho utilizzato la manitoba ho unito la patata lessa circa 170 grammi per dare gli ingredienti 4 minuti spiga dal foro con lame in movimento aggiungiamo il sale e nel frattempo i fiocchetti di strutto se vi piace lo strutto potete utilizzare anche del burro o margarina come potete vedere questo è il risultato dell'impasto formate una palla e trasferite in una terrina unta d'olio facciamo riposare per un paio d'ore scorse il tempo di lievitazione l'impasto si presenterà così saccate dei pezzi da 80 grammi per la parte bassa e per il tupo facciamo 20 grammi formate delle palline e quindi siamo pronti mettiamo in teglia sono semplicissimi da preparare basta creare un solco aggiungere la pallina e schiacciare leggermente facciamo lievitare fino al raddoppio e poi spennellare la superficie con del rosso d'uovo facciamo cuocere a 180 gradi per circa 20-25 minuti come potete vedere questo è il risultato finale